Buongiorno e bentornati a Medicina 33. Una coppia che ha già dei figli e non ne desidera oppure non può averne altri, una patologia che sconsiglia alla donna una gravidanza per un certo periodo di tempo, in genere la soluzione che viene presa normalmente è la pillola anticoncezionale, però talvolta neanche questa è una soluzione praticabile, magari per ragioni di salute. Ebbene, esiste la vasectomia, ma di che cosa si tratta? È reversibile, di questo parleremo con il nostro ospite in studio di oggi che è il professor Gabriele Antonini. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Urologo, andrologo, ASL, Roma 2. Allora, senta, noi invece parliamo, abbiamo detto di vasectomia, però non sono tanti gli uomini che si sottopongono alla vasectomia, nonostante poi magari utilizzino dei sistemi anticoncezionali. Sì, diciamo che la vasectomia è una procedura chirurgica mini-invasiva, ambulatoriale, molto diffusa nei paesi anglosassoni e nei paesi del nord Europa. In Italia purtroppo non c'è questo concetto della vasectomia e della prevenzione della fertilità. Ma perché? È un problema culturale? Un problema culturale, probabilmente. Allora, vediamo un filmato che ci spiega in cosa consiste la vasectomia. Allora, ecco, allora. Vediamo, ci sono questi piccoli dotti che si chiamano dotti deferenti, tubicini, che portano gli espermatozoi verso la prostata dove incontrano il liquido seminale, vengono pinzettati facendo una piccola anestesia locale, viene tirato fuori il dotto deferente, viene sezionato, cauterizzato, quindi bruciato all'interno in modo da chiudere il lume del tubicino e poi viene tagliato. L'intervento è un intervento molto molto semplice, si effettua in circa 4-5 minuti, è una procedura completamente ambulatoriale. Completamente ambulatoriale e poi si esce ed è tutto normale? Assolutamente. Consigliamo sempre un riposo di 24 ore, un po' di ghiaccio in locale, ma niente di che. È un intervento. Allora, il problema vero è che una delle paure è che non sia reversibile. C'è una reversibilità della vasectomia? Perché poi nel momento in cui una persona desidera poi avere un figlio, invece poi non si riesce ad averlo. Abbiamo un filmato che ci fa vedere in realtà che potrebbe essere reversibile, ci spiega. Sicuramente è una procedura chirurgica reversibile, basta anastomizzare i due estremi dei dotti sezionati. Che significa anastomizzare? Attaccare, detto in modo molto semplice, si possono attaccare tra di loro oppure si possono attaccare, come abbiamo detto, a livello dell'epididimo e quindi favorire l'afflusso degli spermatozoi verso la prostata per l'emissione con il liquido seminale. Non è vero che una coppia che ha avuto una vasectomia non può avere dei figli perché comunque sia si possono effettuare sempre dei prelievi di spermatozoi a livello dei testicoli facendo un piccolo prelievo, si chiama microtese, sempre ambulatoriale e provvedere ovviamente a una fecondazione medicalmente assistita. Ecco, nel caso che magari non funzioni questo riattaccare, diciamo. Assolutamente, oppure che il paziente non voglia effettuare di nuovo una reverse vasectomy. Ok, certo, in quel caso dice voglio un figlio ma non ne voglio un altro, per dire adesso lo dico malamente. Allora, uno dei problemi forse per cui in Italia non si è particolarmente predisposti alla vasectomia come sistema anticoncezionale è la paura che poi possa in qualche modo interferire con la potenza sessuale. No, assolutamente falso perché la potenza sessuale è strettamente correlata a un meccanismo vascolare a livello delle arterie del pene e a un assetto ormonale che comunque rimane invariato. La produzione del testosterone, nello specifico, e degli ormoni maschili non viene alterata da questo piccolo intervento ambulatoriale. Perché c'è un problema di tipo psicologico forse, no? Più che altro. Assolutamente, ma comunque sì, anche una vasectomia prevede l'emissione del liquido seminale. Non ci sono all'interno del liquido gli spermatozoi, ma il liquido nel momento dell'eiaculazione esce normalmente. Senta, quindi abbiamo detto che non è dolorosa e non è un intervento impegnativo? Assolutamente, molto molto facile, nelle mani esperte. È un intervento che si effettua senza bisturi. Si usano due piccoli strumentini chirurgici che prevedono il pinzettamento del dotto deferente previo una piccola anestesia locale, la fuoriuscita del deferente dalla cute e la sua sezione. Senta, è un anticoncezionale sicuro? Diciamo che nei primi 5-6 mesi è ancora insicuro, perché nella porzione prossimale, quella che va verso la prostata, all'interno del dotto deferente rimangono delle cellule germinative, rimangono degli spermatozoi. Quindi nei primi 5-6 mesi ancora c'è la possibilità, dopo una vasectomia, di avere una gravidanza. Dopo quel periodo assolutamente è un metodo anticoncezionale estremamente efficace e sicuro. Professore, il sistema sanitario nazionale passa questo tipo di intervento? Assolutamente sì. È previsto nel nomenclatore delle prestazioni chirurgiche, almeno nella Regione Lazio, come un intervento totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Basta rivolgersi a un andrologo che ha competenze chirurgiche, effetto a questo tipo di procedura, per avere la completa assistenza. Grazie professore, grazie. Con questo vi saluto e come sempre vi do appuntamento con Medicina 33. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.